Stasera, lei saprà senz'altro professore che c'era un emendamento che è stato tolto che riguarda l'assistenza psicologica non soltanto ai minori, è stato tolto per risparmiare e dare soldi altrove, però c'è una raccolta di firme, ve la segnalo perché è arrivata a cifre altissime in solo 5 giorni ed è una raccolta di firme per ripristinare il sostegno psicologico legato al Covid. La seconda domanda che volevo farle riguarda il vaccino universale. Ho letto una dichiarazione, un'intervista di Fauci che parlava dell'ipotesi di studio che si sta lavorando a un vaccino universale, lei è un medico ma è anche uno scienziato se non mi sbaglio, è nel doppio ruolo ad Atlanta, dirige il dipartimento di patologia della scuola di medicina e anche il laboratorio scientifico, quindi in questa sua doppia veste di medico e di scienziato. Il vaccino universale è lontano, è conveniente per le case farmaceutiche perché in questo articolo Fauci faceva anche immaginare che ci fosse una qualche resistenza da parte delle case farmaceutiche perché è meglio avere un vaccino per ogni variante così ogni volta che cambia la variante si cambia il vaccino. Sì questa è una bella domanda, un po' me l'aspettavo, tra l'altro ne parlavamo con con Tony Fauci un mesetto fa quando Omicron si è affacciata qui in America. Io sinceramente ero molto interessato del fatto che sia Moderna che Pfizer stessero appunto lavorando rapidamente a un vaccino specifico per Omicron, un vaccino pan coronavirus contro tutti i coronavirus ci vorrà più tempo e comunque non è possibile prevedere varianti future, quindi limitiamoci a un vaccino specifico su Omicron o comunque che comprenda tutte le varianti conosciute finora. La risposta di Tony che tra l'altro giovedì prossimo riceverà un laurea Noris Causa dall'Università della Sapienza e quindi con cui siamo regolarmente in contatto, la sua risposta è stata guarda che con la terza dose la copertura nei confronti di Omicron è molto buona sia dal punto di vista degli anticorpi sia dal punto di vista delle risposte cellulari, quindi ecco potremmo non averne bisogno, però è chiaro che se arrivasse questo vaccino sarebbe una cosa da esplorare, da implementare. La parte difficile della domanda, dottoressa Gregorio, è quella degli interessi delle industrie farmaceutiche, io lo sa non prendo una lira da nessuno fuori dalla mia università, qui si entra in un terreno delicato perché effettivamente se si fa un vaccino per ogni variante anziché un vaccino più universale è un pochino il flusso di denaro cambia. Io sinceramente provo a buttare là l'idea che forse non è questo il problema principale, ecco se in una situazione come questa che ha letteralmente devastato la nostra umanità qualcuno che comunque ha fatto un lavoro straordinario nel produrre questi vaccini così rapidamente, così efficaci, così sicuri eccetera, se qualcuno ci guadagna un pochino di più ecco non credo che sia la fine del mondo, questo lo vorrei dire, penso che i problemi siano altri sinceramente. Non è la fine del mondo professore anche se qualcuno ci guadagna un pochino di meno, diciamo, vale nelle due direzioni questa sua affermazione. Coinvolgiamo allora subito anche il direttore Molinari.